Ci tenevo a dire una cosa, così ci mettiamo avanti come discorso anche per quando poi discuteremo del bilancio. A me piacerebbe, dico piacerebbe proprio perché poi magari fondamentalmente non mi aspetto che avvenga, sentire in questo consesso una discussione che vada al di là delle ideologie politiche, noi abbiamo sempre cercato di parlare di idee, e che vada al di là della propaganda elettorale, anche se capisco che tanti di voi sono già in campagna elettorale, perché alcune volte arrivano delle considerazioni dall'opposizione, dalla minoranza, che poi non hanno un sostegno economico, che non hanno un fondamento di realtà. Questo che per un mese parleremo di bilancio, io faccio questo auspicio che invece sia che ci siano dei fondamenti di realtà nelle proposte che farete. Cioè che se andrete a dire che è più importante il settore educativo rispetto ad un altro, lo sosterrete anche nei numeri, dicendo dove andremo a prendere quelle risorse che non ci sono. O al contrario, se fosse il welfare, o qualche altra, voglio dire, vostra sensibilità, direte anche dove le andiamo a prendere quelle risorse che in passato sono state sprecate, che adesso non arrivano più dal governo e che quindi non ci sono più, perché di questo ce ne dobbiamo rendere conto. Se no rimangono parole al vento, io spero che non vogliano essere queste, perché i cittadini non si aspettano questo, sono stanchi di questo, del rimbalzarsi delle responsabilità reciproche, senza però arrivare al nocciolo dei problemi. Cioè capire come vogliamo insieme, se vogliamo farlo insieme, se no non lo faremo, come vogliamo risolvere i problemi e trovare delle soluzioni. Perché se no, se ognuno, sulla base del proprio programma elettorale di maggio, verrà a dire, perché era la cosa più importante, che si doveva investire in quello, sapendo che invece se si investe in quello si toglie da qualcos'altro, spero che il senso sia questo. Perché io fino adesso non l'ho visto. Ho sempre visto affermazioni che dicano, ma come? Si va a incidere su quella spesa che è la più importante? Ma nessuno dice dove si vuole controbilanciare quel giustissimo senso di investire più su un settore che su un altro. E quindi mi aspetto questo, non penso di chiedere tanto, quindi mi aspetto degli emendamenti, che però siano puntuali sulle cifre e non sulla demagogia. Grazie. Grazie.